Dopo mesi di studio, ricerca e aggiornamento costante, la Crisalida ha dato vita a Progetto Giovinezza, il nuovo programma anti-age. Perché curare costantemente la pelle è il primo passo fondamentale per rallentare e contrastare l'invecchiamento cutaneo. Per avere risultati visibili e duraturi, è necessario per prima cosa preparare la pelle. Il Progetto Giovinezza consiste nella sinergia tra nuove manualità, prodotti e macchinari sempre più performanti. Ogni trattamento inizia con uno sblocco della muscolatura sulla schiena e sul busto, per poi passare a trattare il viso con principi attivi, tecniche e tecnologie sempre più innovative, quali la radiofrequenza e l'elettroporatore. L'elettroporatore ci permette di veicolare in profondità il principio attivo, per rivitalizzare il derma e l'epidermide. Questo e molto altro è Progetto Giovinezza, rivolto a coloro che vogliono contrastare il passare del tempo e avere un viso disteso e naturalmente giovane, senza ricorrere alla dell'elettroporatore.